Ciao a tutti ragazzi sono qui per aprire la casella successiva Ieri abbiamo aperto la numero 5 e oggi apriamo invece insieme a voi la casella numero 6 Eccola qua, eccola numero 6 Vediamo che tutto si è diviato Grazie. 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 Eccolo qui, guardate quanto è bello. Questo è tutto, noi ci vediamo domani con l'apertura della casella numero 7. Ciao a tutti, a prossimo video.